Comincia il viaggio di TV City negli istituti comprensivi di Torre del Greco. Oggi siamo alla Giacomo Leopardi con la dirigente Olimpia Tedeschi. Da qualche settimana è iniziato il nuovo anno scolastico. Preside, come stanno andando le cose? Allora, bene, perché ogni inizio è sempre una cosa bellissima. Siamo molto contenti. Cominciamo quest'anno con i ragazzi a già progettare tante cose. A breve, il 10 ottobre, avremo il primo incontro nel nostro progetto POTOF di educazione all'Humanitas e sarà nostro relatore il professore Ciro Ranisi, che è docente alla facoltà all'università Sororso la Benincasa di Napoli, lingue e culture straniere. È una persona veramente competente che abbiamo avuto già il piacere di avere altre volte. Poi proseguirà questo percorso, ancora con altri incontri, uno al mese fino ad aprile e avremo tra l'altro ospiti la professoressa Laverde del liceo De Bottis, la professoressa Napolitano del Pitagora, il giornalista molto noto attore del greco Salvatore Perillo e il professore Leonardo Acone dell'Università di Salerno, presidente della facoltà di laurea, delle sedute di laurea della facoltà di scienza della formazione. Faranno questo bellissimo percorso riflettendo sulla favola come genere letterario, si partirà da Esopo a Fedro ai contemporanei e diventerà un'occasione formativa per le nuove generazioni attraverso quel famoso messaggio morale di cui la favola è portatrice. Sono tante le progettualità che nei prossimi mesi interesseranno questo istituto. In particolare c'è un progetto che nasce in rete anche con istituti superiori, nati non foste a vivere come bruti ma per seguir virtute e conoscenza. Qual è l'obiettivo? Ecco, proprio quello che dice il titolo, parafrasando questa famosa frase dell'Ulisse dantesco. Vogliamo attraverso, utilizzando un fondo dell'USR Campania, perché abbiamo partecipato a un bando per la prevenzione al cyberbullismo, vogliamo cercare di formare le nuove generazioni a partire dall'infanzia per tutto il percorso scolare, quindi primo ciclo e secondo ciclo, a questa idea dell'essere umano che è il centro del tutto ma anche il fine e non il mezzo come diceva Kant. Nel senso, mi spiego meglio, l'uomo deve recuperare il senso di umanità, la capacità relazionale e i valori fondamentali dell'essere umano che sono appunto la dignità della persona, il rispetto dell'altro, attraverso un percorso di crescita che comincerà l'infanzia con educazione alla gentilezza, quindi il recupero di quelle paroline che sembrano banali ma che formano l'uomo, scusa, grazie, posso, per piacere. E poi proseguiremo con un approfondimento alla scuola primaria del lavoro in gruppo, quindi la collaborazione, le piccole regole di vita quotidiana che saranno sviluppate nella scuola media, quindi rispetto della diversità, la tolleranza, la capacità di dialogare e poi si approfondiranno nella scuola superiore con il recupero anche di quelli che sono gli articoli costituzionali, i diritti e doveri del cittadino, la formazione dell'uomo. Questo percorso lo abbiamo strutturato in rete, noi come Giacomo Leopardi siamo scuola capofila e collaboreremo con il De Bottis e con il Nobel, due licei del territorio molto disponibili con i quali abbiamo un grande legame perché molti nostri ex alunni adesso frequentano questo liceo, quindi ci è sembrato di fare un discorso di continuità ed è una ricchezza per tutto il territorio. Da qualche mese si è insediata una nuova amministrazione come dirigente scolastica, avete avuto già modo di incontrare il nuovo assessore alla pubblica istruzione? Sì, 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 anzi lo ringrazio perché il dottor Polese e la dottoressa Sorrentino ci hanno già contattato proprio all'inizio del loro insediamento, lo stesso sindaco, perché ha fatto un incontro con tutti i dirigenti, quindi diciamo abbiamo già avuto modo di conoscerli. In particolare lei come dirigente ha delle richieste nello specifico, non so, dal punto di vista strutturale o per altre cose, per altri progetti alla pubblica amministrazione? Sì, la mia richiesta è quella di sempre, cioè di risolvere il problema dei solai perché queste scuole che sono strutturate secondo le famose leggi Falcucci sono un po' tutte le scuole che hanno queste carenze a livello proprio di permeabilità dei solai, quindi ci sono delle perdite un po' diffuse che tamponiamo, il Comune tampona, ma che secondo me bisognerebbe risolvere una volta per sempre. E poi ci sta il problema delle palestre. Io ho chiesto al Comune attraverso questa possibilità di presentare un progetto che ci hanno offerto di agire per la ristrutturazione della nostra palestra nella sede centrale. Ne avrebbe bisogno anche quella Giovanni Paolo, ma quella della sede centrale che è molto sfruttata, per noi rappresenta un punto di forza, ha bisogno di una revisione totale e ci conto su questo intervento comunale. Ma le novità non riguardano solo i progetti formativi grazie ai fondi del PNRR, che cosa è stato fatto in questa scuola? I fondi del PNRR sono stati veramente una ricchezza per noi, come per tutte le scuole italiane. Li stiamo investendo nella creazione o nella ristrutturazione di ambienti innovativi, quindi non solo ci siamo dedicati al digitale, ma anche a creare dei luoghi trasversali di formazione laboratoriale. Per esempio stiamo strutturando una nuova radio, creando una radio a cui i ragazzi potranno collaborare attraverso anche un percorso formativo. Abbiamo un po' rivisitato tutto il laboratorio musicale, linguistico, informatico, il teatro, il laboratorio scientifico. Abbiamo creato due aule nuove, l'aula di defaticamento che dedicheremo a breve a un grande professore universitario morto recentemente, il professore fianco bancardi, e abbiamo strutturato un'aula giù, il vecchio atelier, in modo nuovo, creativo, dedicandola a Carlo Acutis, questa nuova figura che è emersa nell'ultimo periodo come modello per i giovani della generazione digitale. Abbiamo in questo senso anche un po' comprato a redi, pitturato qualche ambiente, ma anche rivisitato tutte le porte di questi ambienti innovativi. Ad ogni porta che corrisponde ad un ambiente abbiamo dato un nome e abbiamo riportato una frase celebre di quest'autore a cui abbiamo dedicato il laboratorio, che deve essere un monito costante per i nostri alunni e per coloro che visiteranno la nostra scuola. All'inizio dell'anno scolastico sono tante le aspettative degli studenti, qual è il messaggio della dirigente ai suoi alunni? Allora, il messaggio che faccio ai miei alunni è un augurio, un augurio di poter investire bene il loro tempo nella scuola e in questo percorso formativo che la scuola offre. Come dico sempre agli studenti e ricordo qualche volta anche i docenti nei luoghi collegiali, istituzionali, la scuola oggi ha una funzione fondamentale, più che nei tempi passati, perché è veramente un baluardo di formazione e di civiltà. Quindi è importante che questo tempo che si viva nella scuola si viva con consapevolezza e che tutti i cosiddetti stakeholders, componenti che agiscono in questa comunità educante, docenti, dirigenti, collaboratori, famiglie, investano nella formazione delle nuove generazioni a 360 gradi, perché adesso si seminano quelli che sono le componenti essenziali del futuro uomo e del futuro cittadino. Grazie Preside Tedeschi, proseguiranno gli appuntamenti e gli approfondimenti di TV City nelle scuole di Torre del Greco.